Anticipazioni tempesta d'amore. Trama puntate. Giovedì 29 luglio 2021. Selina è sempre più convinta che Ariane abbia un amante segreto. E fa di tutto per arrivare alla verità. La donna mentre si trova in hotel nota l'orologio che ha visto nella camera di Ariane al polso di Eric e crede di aver risolto l'enigma. Werner nel frattempo è felicissimo e vuole celebrare il presunto ritorno della memoria di suo fratello. Alphonse e Hildegard organizzano una grande festa in suo onore. Nel corso dei festeggiamenti André commette un errore e qualcuno si rende conto che ha mentito. In altre parole l'amnesia persiste ancora. Maya pensa e ripensa al mancato bacio con Florian. E dopo vari ripensamenti decide di essere finalmente sincera con se stessa e con lui e di rivelargli che cosa sente. A un tratto nota Napoleone in fuga e si precipita dal Vought per avvertirlo. I due si mettono subito sulle tracce del coniglietto. A un tratto a causa di un errore della vonta lame Florian si ferisce gravemente. Michael insiste. André deve tornare a casa con lenti. L'uomo però non vuole e non nasconde il suo disagio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.